Il torneo internazionale di calcio giovanile San Giovanni Battista si rinforza il vincolo tra Italia e Venezuela in modo particolare con la Valle dell'Irno. Quali aspettative per questo evento che ormai alle porte? L'aspettativa è sempre grande. Il secondo anno che facciamo già il torneo internazionale San Giovanni Battista. Questo non è soltanto il fatto dello sport che ci dà l'opportunità alle squadre venezolane, ai giovani giocatori venezolani, di partecipare e confrontarci con le squadre italiane. Eppure il fatto che noi vogliamo rafforzare l'aspetto sportivo collegato a quello culturale e turistico. Perciò questo evento rappresenta per noi una vitrina molto importante per far conoscere i nostri giocatori eppure i giocatori europei che qualche volta pure verranno in Venezuela. Evento patrocinato sia dal comune di Pellezzano che dal comune di Baronissi. Quindi si allarga la rete e c'è questo sostegno istituzionale da parte dei comuni a un evento che vedrà in assi di partenza oltre 250 giovani. Sì l'hai detto bene così è. L'obiettivo nostro è ingrandirlo sempre ogni anno di più con più squadre. Quest'anno abbiamo non solo la categoria giovanissima ma anche la categoria pulcini. Più di 16 squadre si sono coinvolti in questa manifestazione per il secondo anno. L'obiettivo è coinvolgere tutta la Valle dell'Irno, fare delle partite non soltanto in un solo posto, unire tutte queste città e fare tutta una manifestazione sportiva e culturale. I venezuelani l'anno scorso sono stati a Baronissi, tante famiglie hanno potuto visitare la città. Qual è stata l'impressione che hanno avuto di questi posti? No, contento, molto bene. Loro sono rimaste con un po' l'ammarezza perché volevano quest'anno non solo altre squadre, c'è sempre quel rapporto perché da noi è il rapporto tra il Venezuela e l'Italia. Io sono figlio di un connazionale che da 60 anni è arrivato in Venezuela, siamo riundi di queste zone. Allora c'è sempre quella voglia di collegare i due paesi, le due culture e farlo, come l'ho detto sempre, il rapporto sportivo, culturale e turistico. Si parte martedì 7 aprile fino al 10 aprile, quattro giorni di sport. Raccontiamo un pochino quello che sarà l'evento. Si, si incomincia giorno martedì dopo la Pasquetta, quattro giorni di attività sportiva, due categorie, giovanissimi e i Pulcini. In la categoria giovanissimi, che saranno gli under 15, categoria 2.000, abbiamo sei squadre che stanno onrando il compromesso in questa opportunità. Il giorno martedì saranno le fasi eliminatorie. Il giorno mercoledì dopo ci trafferiamo al campo di Figliolia, la Baronissi, dove saranno le semifinali. Per il giorno mercoledì, in la categoria 2.000, saranno i finali, terzo posto e il finale. E il giorno dovedì finiamo l'evento con le categorie a Pulcini, dove saranno anche le finali. Secondo torneo internazionale di calcio giovanile San Giovanni Battista. Baronissi apre le porte al Venezuela, si rafforza questo vincolo tra l'Italia e il Sud America e soprattutto la Valle dell'Irno. Sì, assolutamente. Un evento così importante che siamo onorati di ospitare è la seconda edizione, come hai detto tu. Quest'oggi la presentazione della conferenza stampa, in cui verranno spiegate tutte le dinamiche. I valori dello sport ancora una volta sorpassano i confini nazionali. I giovani insieme per lo sport, per stare insieme, per vincere e per superare quella difficoltà che a volte vediamo e che, tra virgolette, gli adulti fanno fatica nella società ad affrontare. L'amministrazione comunale ha sposato con convinzione questo progetto. Baronissi si conferma città dello sport. Sì, Baronissi sempre più città dello sport. Non solo abbiamo sposato, ma abbiamo già inoltrato l'invito ad ospitare completamente il torneo il prossimo anno. Siamo felici e i nostri complimenti vanno anche alla Polisportiva Baronissi, che partecipa a questo torneo delle giovanili. Ci saranno anche giovani provenienti dal Venezuela. Può essere lo sport un attrattore anche turistico per promuovere le bellezze del territorio? Assolutamente. Crediamo in questo, crediamo nello sport, nella cultura, nelle attività giovanili. Sono un attrattore importante per il nostro territorio. L'abbiamo visto con le baronissie di questo villaggio dello sport che riproporremo a luglio e che ha visto confluire a baronissi migliaia e migliaia di persone che naturalmente portano ricchezza al territorio, lo fanno conoscere, fanno conoscere il proprio patrimonio, ma portano anche un fattore economico importante per le nostre attività. Le di calcio giovanile San Giovanni Battista, quest'anno l'evento arriva anche a Pellezzano per volere dell'amministrazione che ha garantito il suo sostegno all'evento. Sì, ci tenevamo tantissimo ad accogliere questo torneo che oggi, come dicevi tu prima, è la seconda edizione. Con lo sport, con il calcio per noi è alla base di tanti valori formativi, tanti valori di società che oggi si sono un po' impesti. Cerchiamo con lo sport e con il calcio di mandare anche un messaggio pulito a questi ragazzi che affrontano questi tornei stando insieme. Il nostro obiettivo è quello anche della sinergia che ci può essere tra i comuni vicini, perché secondo me soltanto con l'aiuto di tutte e due le istituzioni possiamo raggiungere dei risultati che oggi con una sola parte non ci saremmo riusciti. E' anche importante il gemellaggio che può essere istituzionale con una capitale come quella del Venezuela. Per Pellezzano sicuramente è un onore ospitare una delegazione di questa nazione e cerchiamo di portare sempre più in alto il nome del nostro paese. Si parlava appunto dei rapporti tra amministrazioni, quella di Baronissi e quella di Pellezzano in più di una circostanza hanno dimostrato di saper dialogare quando appunto la politica dialoga per il cittadino. Infatti l'obiettivo nostro è quello di, a prescindere dai colori politici che un'amministrazione possa avere, però appunto è quello della sinergia. Con l'assessore Siniscalco ho una grande intesa e si perfeziona ogni volta che c'è una manifestazione in comune. Sono davvero contento di avere tra virgolette come amico l'assessore Dono Siniscalco perché abbiamo tantissimi punti in comune e quindi insomma la sinergia si perfeziona sempre di più. Può essere la promozione dello sport tornando al torneo un strumento per promuovere anche le bellezze del territorio, il turismo appunto a Pellezzano? Sicuramente, sicuramente lo è e noi ci teniamo tantissimo a far conoscere la nostra cittadina Pellezzano come quella di Baronissi perché insomma vicino a una città come Bella come quella di Salerno è un grande valore per noi arrivare a questa manifestazione portando proprio avanti il nome del nostro paese.